Riprese questa mattina le ricerche di Tonino, Gian Mauro, Gian Marco e Valeria, i quattro escursionisti avezzanesi dispersi da domenica scorsa sul Monte Velino. Circa 100 gli uomini di soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e alpini che stanno battendo la zona della valanga che con ogni probabilità ha inghiottito i quattro. Una valanga estesa a due chilometri con uno strato di neve compatta spesso dai 9 ai 12 metri che ha messo a dura prova anche il fiuto dei cani molecolari. Oggi però, complici anche le buone condizioni meteo, si spera possa essere il giorno del ritrovamento. E' infatti arrivato al campo base di forme di massa d'albe un potente sonar dalla Valle d'Aosta. Si tratta di un'antenna di 80 centimetri di diametro, mai utilizzata prima in Abruzzo, che è montata un elicottero in grado di captare metalli anche a profondità importanti. Obiettivo quello di trovare traccia di chiavi, cellulari, rinforzi degli indumenti d'alpinisti, qualsiasi oggetto che i dispersi possano avere con sé. E oggi dovrebbe arrivare da Ovindoli anche una battipista scavatore, con un elicottero adatto ai grandi carichi, che sarà utilizzato per la delicata fase dello smassamento della neve. Famiglieri e soccorritori non si arrendono e sperano ancora nel miracolo. Quello di ritrovare vivi i quattro escursionisti ha quasi una settimana da quando non se ne hanno più notizie.